Guarda cosa faccio, prendo questo pallone, domenica sicuramente, essendo che noi altri ti fiamo cadane e ci mancherebbe a prescindere, buchiamo la rete del nostro carissimo Messina. Buchiamo la rete ma non il pallone. Ma non il pallone, amici miei, allora stasera alle ore 20 c'è la replica e vedete tutte e tre più il nostro amico Alessio, domani alle ore 15, ma non dimenticate che lunedì siamo qui con questo pallone rosso-azzurro.